Buonasera a tutti ragazzi, buonasera, qui Mr. Rob dal Minerva Studio, sto distruggendo mezzo mondo e stasera ti voglio parlare di una cosa che devi fare prima di iniziare a mixare è una cosa molto importante, è un concetto più che una cosa effettivamente pratica specialmente all'inizio c'è la tendenza di cominciare a mixare immediatamente cioè tu apri la sessione, importi i file e la prima cosa che fai è cominciare a mettere in mano la plugin, apri i file eccetera questo è un approccio che non va assolutamente bene per il mio modo di intendere il mix perché altrimenti si rischia di diventare dei meri tecnici che mettono là il plugin ma questo lo sanno fare tutti invece di avere un approccio un po' più filosofico al mix più artistico devi capire che in ogni mix c'è un elemento o uno o più elementi che guidano quello che è l'esecuzione finale del mix ci sono dei particolari, degli strumenti che se individuati e fatti risaltare danno la svolta al nostro mix quindi prima di iniziare a mettere le mani sui father, a mettere plugin, a fare tutto il manicomio devi capire quali sono gli strumenti cardine devi capire ok in questo mix quello che devo risaltare è questo synth, la voce, il kick e l'808 ok? per esempio perché non è vero che ogni mix ha ormai c'è la cosa nella trap che c'è l'808, il kick, lo snare, la voce e basta poi il resto si vede in realtà non è proprio così perché ci sono alcune cose che vanno analizzate prima di iniziare a mixare perché quando tu metti le mani sui father devi avere già ben chiaro quello che devi andare a fare devi avere già ben chiaro il risultato finale che vuoi ottenere cioè qual è la tua strada da percorrere ok? e questo è un problema grosso perché poi ti ritrovi alla fine del mix che il mix non ha priorità tutto suona sullo stesso livello tutto super compresso non riesci a distinguere i toni e quindi alla fine ti ritrovi a dover rifare tutto quanto per il semplice motivo che non hai preventivamente progettato appunto quello che era la strada da seguire ok? quindi non iniziare a mixare subito cioè non mettere subito i plugin prima prenditi il tempo per ascoltare fai le tue analisi cerchi il suono dove vuoi arrivare mentalmente e soprattutto all'inizio scriviti anche su un bloc note se ti prendi un quaderno qualunque cosa sia scriviti quello che può essere la tua strada perché è chiaro che poi man mano nel mix puoi dimenticartele per cui tu ti fai il progetto e dici ok la strofa deve suonare in questa maniera questo synth qua deve suonare così e così facendo vedrai che durante il mix avrai sempre punti di riferimento cardine che ti guidano ok? ti guidano e e questa qui è una cosa importante perché è proprio un'abitudine mentale che devi avere e sto guardando un video di un mio mentor e quindi mi è venuto in mente di fare questa cosa perché giustamente lui ha detto devi capire qual è il cuore della canzone e devi far risaltare quel cuore altrimenti se mixi tutto sullo stesso livello non è non è un 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 mix un mix cioè alla fine è come se tu prendi un quadro e gli metti tutti i colori senza una logica invece va progettato prima come si progetta? semplicemente ascolti capisci quello che è secondo te il cuore e la cosa bella di questo lavoro è che ogni ingegnere vede una sfumatura diversa del mix se mixo io do importanza ad alcuni elementi rispetto a chi ad altri se mixi tu dai importanza ad altri elementi rispetto che ai miei o magari ai miei stessi elementi maltratti in maniera diversa e questa formamentis ti serve a crearti il tuo suono perché le persone vengono da te per il tuo suono per come tu mixi se tu non hai questa formamentis è chiaro che sei uno che si mette là a fare le accozzaglie di plug-in mette le cose i compressori senza sapere neanche quello che sta facendo quindi non va bene prima di mettere mano ai plug-in fermati ascolta capisci qual è il cuore capisci qual è il materiale che hai cosa devi far uscire fuori da questo pezzo qual è l'emozione che devi far uscire fuori qual è l'elemento che guida che veicola quell'emozione ok che veicola quell'emozione e dagli le priorità e dopo sulla base di questa decisione di questo di questo ponderamento fai anche gli interventi perché se no tu non sai se devi comprimere o non devi comprimere perché dovrei comprimere cioè capisci perché devo equalizzare in questa maniera qual è lo scopo lo scopo lo trovi prima di iniziare a iniziare bene questa era una cosa che è veramente importantissima che devi fare non ci tenevo a dirla eccoci qua questo è Mr. Lo dal Minerva Studio è tutto ci vediamo alla prossima e mi raccomando prima di mixare cervelletto su on e capisci qual è l'elemento più importante chiuso nel Minerva Studio coccino sto mix coccino sto beat c'è lo beat ho fra dei mutton ti caccia la hit ti caccia la hit